Un anno della propria vita a servizio degli altri, nell'ottica della gratuità e del dono di sé all'interno di un'esperienza di vita comunitaria. E questo è il progetto di volontariato, mi sta a cuore, curare il presente per sognare il futuro, promosso da Caritas Italiana in collaborazione con l'Azione Cattolica Italiana. Per parlare di questo progetto siamo collegati con Don Antonio De Rosa, appunto di Caritas Italiana. Buongiorno Don Antonio. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Grazie in assenza per l'invito. A lei per averlo accettato. Allora, in cosa consiste questa iniziativa? Allora, è un'iniziativa che dall'anno scorso Caritas ha avuto a cuore, con il desiderio di dare protagonismo a quelli che sono i giovani, la nostra forza, il nostro motore portante. E il desiderio è di proporre un anno di esperienza sia di protagonismo nei nostri uffici che di servizio alle fasce più deboli, a quelle che sono i poveri, a quelle che sono i più bisognosi, affinché all'interno di quest'anno il giovane possa riscoprire, ritrovare la propria vocazione. Non nei termini semplicemente diventare suori o diventare preti, così come di solito colleghiamo attraverso questo termine, ma con il desiderio di poter mettere a frutto quelli che sono i talenti che il Signore ha donato. Stiamo vedendo delle immagini relative all'edizione, alla prima edizione che, come ha detto lei Don Antonio, si è tenuta lo scorso anno e quest'anno si vuole riflettere su un tema particolare che è quello della fraternità. Direi anche in ideale sintonia di intenti con Papa Francesco, che con ovviamente la sua enciclica Fratelli Tutti ha messo la fraternità davvero in primo piano nel dibattito pubblico, ma anche all'interno della Chiesa. Ecco, mi piace molto l'espressione mi sta a cuore, che ricorda molto quella anche di Don Lorenzo Milani, di cui abbiamo celebrato il centenario ovviamente della nascita, con tutte le celebrazioni che ci sono state, dunque in qualche modo ritorna a questo leitmotiv così importante. Io quello che le vorrei chiedere allora è da dove deve nascere l'iniziativa di coinvolgere i giovani in questo tipo di progetti che portano i ragazzi giovani a sporcarsi le mani per gli altri. Quale deve essere il motore che li deve spingere a voler spendere un tratto della propria vita, probabilmente anche il più bello, che potrebbe essere speso in maniera direi egoistica al servizio degli altri? Diciamo che l'obiettivo è quello di riaccendere la fiamma che naturalmente il Signore ha messo nel nostro cuore, nel cuore di ognuno di noi c'è il desiderio di poter amare, di poter andare incontro al prossimo, nel cuore di ognuno di noi il Signore ha messo quella tensione verso lui che è tensione verso il fratello. E allora il nostro impegno come Chiesa, sotto tutti gli aspetti, come diceva lei prima, c'è una collaborazione di Caritas insieme con quella che è la pastorale giovanile, insieme con quella che è l'azione cattolica, in quelli che sono i territori, affinché insieme possiamo costruire rete e andare a richiamare quella vocazione che il Signore fa ad ogni uomo. E soprattutto cercare di ricordare tutto questo ai nostri giovani, di dire guarda che nel tuo cuore c'è il desiderio di essere per l'altro, nel tuo cuore c'è quella promessa, quella certezza che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Don Antonio, perché è importante che i protagonisti siano i giovani di questo progetto? È fondamentale perché come Chiesa universale ci stiamo ponendo quella che è la domanda e la questione di poter raggiungere i giovani, non solo perché noi sono il nostro futuro, ma perché sono il nostro presente. Non è possibile pensare ad una Chiesa senza questo grande motore. La nostra forza, la nostra energia, la nostra profezia, il nostro sogno. Il progetto desidera proprio mettere insieme le generazioni, quindi da una parte i giovani con il loro entusiasmo e il loro dinamismo, da una parte la saggezza di chi invece ha già fatto i capelli bianchi, di chi in qualche modo ha già fatto esperienza dell'incontro insieme con il Signore. Senta Don Antonio, una delle caratteristiche della prima edizione del progetto era il fatto che i ragazzi vivessero insieme in fraternità, cioè che abitassero tutti insieme, potremmo semplificare in questo modo. Questo ha cementato l'unione dei ragazzi, verrà riproposto nella seconda edizione. Ci faccia capire un po' da questo punto di vista come si sviluppa il progetto? Il progetto, come dicevamo prima, ha la proposta di essere incontro al prossimo e al bisognoso, ma fraternità vuol dire in qualche modo fare esperienza di condividere quotidianamente quella che è la propria vita insieme ad altri. Il progetto mi sta a cuore come punto centrale quella che è la vita comunitaria. Vita comunitaria perché questi giovani nello sperimentarsi nella quotidianità della loro vita, nel cucinare insieme, nel poter condividere l'appartamento, nel poter condividere anche una semplice pulizia fatta in casa, possano in qualche modo confrontarsi e mettere le loro vite insieme, affinché possano sperimentare quello che Papa Francesco ci ricorda, che fraternità è il passo principale del nostro essere cristiani nel sentirci fratelli all'interno di una casa comune che è la terra. Don Antonio, volendo utilizzare un termine in inglese, che feedback avete ricevuto? Che cose i ragazzi vi hanno raccontato? Come hanno appunto accolto questo progetto? Alla fine insomma funziona realmente? Si sono sentiti, proprio hanno sperimentato che cosa significa fare comunità, condividere e quindi in qualche modo hanno anche potuto capire in quale direzione andare? I sei giovani accolti l'anno scorso hanno fatto, a mio avviso, una straordinaria esperienza, poi magari se dovesse esserci l'occasione proviamo ad ascoltare anche loro nelle prossime appuntamenti. Ovviamente non è tutto ideale, la vita comunitaria così come la sperimentiamo quotidianamente tutti quanti comporta le proprie fatiche, comporta le proprie difficoltà, comporta il dover incrociarsi nelle proprie spigolosità e quindi anche loro hanno fatto questo tipo di esperienza. Però è stato straordinario perché ognuno di loro portava dentro di sé un mondo, un universo. Ricordo in maniera particolare Usman che è arrivato da noi dopo quello che è stata la sua accoglienza in Italia da un'imbarcazione, quindi portava con sé un'esperienza importante, forte, di dolore, di sofferenza, di travaglio. E quando è arrivato qui a questo progetto nella vita comunitaria è riuscito ad essere di favoloso aiuto nei confronti degli altri perché la sua esperienza è stata ricchezza per ognuno di noi. A tal punto che ancora oggi collabora e partecipa insieme con Caritas Roma che immediatamente ha visto dei talenti e delle qualità in lui e continua a prestare quello che è il suo servizio. Quindi ognuno di loro è riuscito in qualche modo a far fiorire quei semi che il Signore ha messo nel proprio cuore. Quindi sì, possiamo dire che è un'esperienza in salita sicuramente, quindi un'esperienza impegnativa che ha il proprio carico di impegno, di servizio e di lavoro, ma è sicuramente un'esperienza che vale la pena. Le stavamo per chiedere, don Antonio, una storia che avesse contraddistinto in qualche maniera questo primo progetto. Ecco, lei ce l'ha ovviamente anticipata nella risposta alla precedente domanda. Siamo quasi in chiusura. Allora, ci sono ancora dei giorni per aderire a questo progetto? Come i ragazzi possono informarsi per partecipare? Fino al 19 febbraio sono aperte quelle che sono le candidature. Quindi invitiamo i giovani d'Italia e non solo a poter in qualche modo cercare di capire se in questo momento della loro vita stanno cercando di realizzare un pezzo in più, se il servizio all'altro può essere un'esperienza che può aiutare la propria vita e quindi cercare di capire se questa vita comunitaria insieme con altri giovani possa in qualche modo far venire fuori i propri talenti. Allora, fino al 19 febbraio è possibile fare tutto questo, dopodiché conosceremo i giovani personalmente che hanno cercato di aderire a questa iniziativa e cercheremo di capire insieme con loro chi può portare a termine il progetto, anche perché un anno è un tempo impegnativo, quindi cercheremo di capire insieme quello che è possibile fare. Noi siamo fuori tempo massimo per l'età, Don Antonio, perché altrimenti avremmo partecipato con grande piacere. Perché è possibile partecipare fino a, ricordiamo? Fino ai 30 anni, dai 20 ai 30 anni. Ai 30 anni, siamo fuori. Siamo fuori, molto fuori. Mi dispiace. Bene, mentre continuano a scorrere le immagini della prima edizione di questo progetto così bello e così interessante, mi piace anche sottolineare anche i sorrisi dei ragazzi che in qualche maniera vi hanno partecipato. Ecco, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È una frase che non tramonta mai, potremmo dire, e che riassume ancora una volta il senso di questo donarsi agli altri. Don Antonio, grazie. Grazie di cuore per essere stato con noi. Ciao Don Antonio. Grazie, buona giornata. Grazie. Grazie, ringraziamo Don Antonio De Rosa. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme.